dopo aver parlato di come la nazionale italiana ha affrontato Costa Rica appunto nel corso dell'ultima partita del mondiale vediamo un attimo come dovrebbe affrontare Uruguay nel corso dell'ultima partita che ricordiamo sarà un po' il punto di non ritorno per gli azzurri secondo la gazzetta lo schieramento sarà questo ovvero sia una linea 3 composta dai tre juventini Barzagli centrodestra, Bonucci in mezzo, Chiellini centrosinistra due flutificanti che andranno ad agire anche in linea con i centrocampisti ovvero sia Darmiana a destra e De Sciglia a sinistra un centrocampo molto tecnico composto da Verratti interno destro, Pirlo interno sinistro due trequartisti che andreva sulla destra, Marchigia a sinistra e un'unica punta ovvero sia ancora ovviamente confermato Mario Balotelli confermato nonostante la prova abbastanza opaca fatta a vedere contro Costa Rica dal mio punto di vista invece se gli uomini dovessero essere questi la formazione sarà molto più simile tatticamente a quanto visto contro Costa Rica ovvero sia con una linea sia tre con però due flutificanti che saranno in realtà in primis terzini e un centrocampo a quattro con Marchisio e Candreva che certo potranno anche poi stringersi, svariare, andare a fare i trequartisti ma che fondamentalmente saranno due esterni di centrocampo ancora una volta deputati andare a raddoppiare sugli esterni in fase di non possesso con appunto i due centrocampisti che invece dovranno aiutare a schermare la difesa che comunque ancora una volta dovrebbe proteggere bene l'area di rigore avendo tre uomini in linea detto di come pare ad oggi che possa giocare la Nazionale Azzurra contro l'Uruguay vediamo come farai giocare io gli azzurri con un solo cambio ovvero una sorta di 3-5-2 come si gioca nel campionato italiano diverse squadre ad esempio la Juventus con appunto confermata la difesa 3 che in campionato tanto bene ha fatto i due flutificanti che vanno ovviamente a ricoprire anche il ruolo di esterni di centrocampo laddove ce n'è bisogno e poi diventano terzini invece in fase di non possesso confermati di Scigli e Darmian un centrocampo in questo caso quindi a 3 con Pirlo vertice basso che può andare a raccogliere palla direttamente dalla difesa per impostare l'azione o nel caso fosse marcato a uomo ovviamente lasciare il compito a Bonucci esattamente questo come succede nella Juve mezzala di destra quindi Verratti confermato anche in questo caso mezzala di sinistra Marchisio esattamente come si trova a fare nella Juve quando gioca quindi non esterno né trequartista ma appunto mezzala a formare una linea di centrocampo a 3 e poi davanti e qua il vero cambio ovvero sia immobile prima punta un giocatore molto bravo a giocare negli spazi e lanciarsi in profondità con Balotelli che invece questo lavoro non lo sa fare seconda punta Prandelli ha detto questi due giocatori non possono giocare assieme secondo me è un presupposto sbagliatissimo Balotelli sappiamo fa fatica a fare la prima punta non ha i movimenti della prima punta non si sa lanciare bene nello spazio il suo gioco invece è molto più spesso quello di girare per tutto il fronte offensivo cercando la palla dialogando con i compagni e poi perché no concludere da distanze anche molto ampie sappiamo è in possesso di un gran destro quindi questo schieramento permetterebbe appunto a Balotelli di fare il suo gioco non rinunciando però a un vero fulcro davanti del resto Balotelli ha dimostrato anche in primis nel club i suoi limiti come prima punta non vedo perché Prandelli non debba attrarre insegnamento da ciò infine ecco come fare giocare io la nazionale italiana se fossi stato al posto di Prandelli già dall'inizio del mondiale insomma come l'avrei fatto a giocare già dalla partita contro gli inglesi fondamentalmente un 4-3-3 con gli esterni offensivi che possono sia supportare l'azione appunto offensiva che rinculare nel momento in cui è necessario appunto per via del fatto che la palla può essere ovviamente in possesso degli avversari come avrei giocato nel caso in cui fossero stati presenti tutti i giocatori a disposizione di Prandelli a inizio mondiale Buffon o Sirigu in porta appunto perché il portiere della nazionale si è fatto male terzino destro ovviamente Darmian terzino sinistro De Sciglio centrali Barzagli e Bonucci chiaramente sulla sinistra in luogo di De Sciglio si poteva schierare Chiellini vertice basso appunto andrei a Pirlo che deve essere per forza di cose dal mio punto di vista il giocatore deputato a giocare in questo ruolo non De Rossi deve essere lui andare a prendere la palla e impostare l'azione con De Rossi qua come in occasione della gara contro Costa Rica si è visto che i due tendevano a pestarsi troppi piedi quindi Pirlo vertice basso del centro campo due mezzali De Rossi e Marchisio in questo caso ovviamente con De Rossi fuori dai giochi giocherebbe Verratti due ali Candreva e Dinsigne e unica punta immobile per quello che ho detto prima immobile è l'unica vera prima punta che abbiamo l'unico giocatore che sa lanciarsi negli spazi ed è un giocatore che ha già dimostrato di sapere fare questo ruolo ovviamente sulla destra a posto di Candreva si poteva mettere anche Cerci fatto sta che in fase di non possesso questo diventa un 4-5-1 o 4-1-4-1 esattamente come contro il Costa Rica però dal mio punto di vista ti dà sia copertura in fase di non possesso ovviamente se a centro campo si fa una buona copertura e se gli esterni hanno gamba e rientrano e sia poi una migliore fase offensiva perché ha i due esterni davvero esterni diciamo d'attacco davvero in grado di poter mettere in difficoltà ogni retroguardia e soprattutto è una prima punta che sa fare i movimenti della prima punta e di questa cosa ne può giovare tutta la squadra io quindi è così che giocherei se fossi l'allenatore dell'Italia nel match contro l'Uruguay grazie 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 grazie